Allora Roberto Russo, quarto posto per l'Italia in questa WNL, Italia in questa finale terzo posto sconfitta dal Giappone al tie-break in una partita dove siete stati bravi a ribartarla a un certo punto poi al tie-break? Sì c'è un po' di rammarico per le occasioni, oltre al tie-break anche il secondo set che l'avevamo in pugno e poi un po' di episodi non ci hanno favorito però sappiamo che questo è il livello, giocare con il Giappone, ieri con gli Stati Uniti dobbiamo alzare l'asticella perché con squadre del genere che si fatica però dobbiamo essere in grado di rimanere in partita sempre, non assente difficoltà quindi questo qui è un punto da cui iniziare per tutta l'estate Si è parlato tanto del percorso di crescita di questa nazionale in un'estate lunga, lo si è visto lo scorso anno, la WNL è sicuramente un banco di prova per capire a che punto si è e quanto bisogna ancora crescere? Si è una competizione in cui le squadre puntano a vincere e quindi bisogna, è sempre un modo per confrontarsi con le migliori nazioni, l'abbiamo visto queste finali sono di un livello altissimo sia la finale anche il terzo o quarto posto si sia stato ad alto livello quindi dobbiamo rimanere umili, continuare a lavorare perché la strada penso sia quella giusta e possiamo fare belle cose Dai primi giorni di lavoro come valuti questa prima parte di estate di squadra e tua personale? Sicuramente di squadra siamo migliorati, c'è ancora tanto su cui lavorare però penso che ci siamo, personalmente sto bene quindi cerco di dare sempre il mio contributo alla squadra cercando di dare sempre il massimo